Dobbiamo essere informati, dobbiamo essere informati e dobbiamo avere la libertà di scegliere un'alternativa e questa alternativa deve essere disponibile. Oggi per molte persone l'alternativa non è di fatto disponibile, perché i bambini mangiano a scuola della merda, nelle mense mangiamo della merda e poi la gente vede la televisione e dice ah com'è buona quella merda lì.